Buongiorno, ben svegliati. Ben ritrovati con la nostra rassegna stampa, come di consueto un'ora insieme per sfogliare le prime pagine dei quotidiani nazionali, locali e poi per entrare nei giornali di casa nostra per vedere quali sono le notizie principali riportate dai quotidiani abruzzesi. Ovviamente cominciamo come di consueto in questo martedì dalla rassegna stampa nazionale e dalle prime pagine dei fogli nazionali. Iniziamo subito dalla Repubblica, vediamo quella che è la prima pagina, c'è l'apertura al centro con il focus sul terremoto, terremoto la ricostruzione nel caos, in ritardo tutti gli interventi. Sappiamo come questa sia una cosa che interessa anche la nostra regione. Interi centri storici ancora chiusi da rimuovere il 92%, pensate, delle macerie. Pochissime casette consegnate, i sindaci. La burocrazia ci soffoca, così le comunità spariranno. In alto ovviamente spazio agli attentati, l'attentato davanti alla moschea a Londra, giorno di terrore nel cuore di Parigi. In Inghilterra un furgone contro gli islamici, un morto. E poi l'analisi di Renzo Guolo, la spirale dell'odio, la linea rossa siriana invece, l'analisi tracciata da Roberto Toscano. Andiamo ancora avanti a centro pagina, la questione Consip, duello in maggioranza, parliamo ovviamente di politica. MDP dice via Lotti, Marroni resiste, i PM non credono a Ferrara. In basso c'era una volta il tema di maturità, insomma si avvicina anche il momento degli esami di maturità per molti ragazzi maturandi. Dalla Repubblica ci spostiamo sulle colonne del Corriere della Sera, che apre invece con l'apertura più grande, con i momenti di terrore che stanno vivendo le capitali europee. Londra ora teme la violenza anti-islam, furgone sui fedeli nella moschea di Finsbury Park. Un morto, il premier Teresa May, atto, dice, assolutamente ripugnante, esattamente come gli altri, che invece erano di matrice esattamente opposta. Terrorismo, l'attentatore arrestato ha urlato, li voglio uccidere. Allarme di Scott Randiard, crescono i crimini legati all'odio. E poi in alto l'ulto del mondo della moda, addio alla stilista Carla Fendi. Il caso Regeni sempre sulla balconata, perché è giusto per l'Italia rimandare subito l'ambasciatore al Cairo. In basso terremoto, anche qui spazio alla questione sisma, hanno zero lavori solo in 32 case. L'inchiesta amatrice, nessuno toglie le macerie. Dal Corriere della Sera ci sposiamo sulla stampa, quotidiano di Torino, Russia, Stati Uniti, la battaglia dei cieli. Parigi attacco alla polizia di Champs-Élysées con un'autobomba, ucciso l'assalitore. Mosca avverte Washington, i vostri jet potenziali bersagli. Londra, un uomo travolge musulmani all'uscita della moschea. E vedete nella fotonotizia, ovviamente, gli Champs-Élysées, che sono stati purtroppo ancora una volta teatro del terrore e della paura. A centro pagina, sempre il caso Consip, maggioranza in bilico. Ius Soli, le condizioni di Alfano. Il caso è sempre più una mina al Senato per il cerchio magico renziano. Dalla stampa ci spostiamo sul messaggero, ovviamente edizione nazionale. Londra, un killer contro l'Islam. Un furgone in veste un gruppo di musulmani all'esterno di una moschea. Un morto e sette feriti. Alla guida, un gallese che, come avete, vi abbiamo letto, urlava, vi ammazzo. L'imam evita il linciaggio e adesso l'incubo diventa quello del terrorismo bianco. Nella fotonotizia, autobomba sugli Champs-Élysées contro la polizia jihadista ucciso. Era schedato, esplosa la vettura. Macron, dice, stretta su tutti i radicali. Di spalla la spirale della vendetta è un folle autogol, scrive Franco Cardini. Sulla destra la scomparsa. Addio a Carla Fendi, signora della moda che amava Roma. E poi in basso, contratto degli statali, il salario accessorio è il primo scoglio. Per il governo, nell'aumento di 85 euro ci sono anche i premi, ma c'è il no da parte dei sindacati. E poi sul caso Consip, guerra di mozioni per azzerare i vertici. In basso, come detto sulla maturità, Trump e Isis sono nel tototema. I consigli di Genovese, un regista, Beccaria, Linguista e Ciabatti, una scrittrice. Ovviamente questi potrebbero essere i temi del tema. E perdonate il bisticcio di parole della prossima maturità. Picco di allarmi. Dietro gli incendi c'è anche l'idiozia. Evitiamo di ripetere ancora mai più. 130, pensate, solamente nella capitale. Dal messaggero ci spostiamo sul tempo. Anticorruzione nel pallone si indaga sullo stadio. Qui il focus ovviamente è dedicato soprattutto alla città di Roma. E il nuovo impianto che dovrebbe sorgere a Roma, il nuovo impianto della Roma, finisce nel mirino di Cantone dell'anticorruzione. Un fascicolo sul parere dell'avvocatura per l'ok al progetto. E poi questo gioco di fotografie tale e quale. A Londra un gallese si scaglia col van contro i musulmani. Sulla sinistra, sulla destra. A Parigi il jihadista kamikaze piomba addosso ai poliziotti. A fondo pagina ecco chi vince e chi perde ai ballottaggi. Ci siamo. Domenica prossima si vota per il secondo turno. In tutti quei comuni che non hanno visto eletto il sindaco al primo turno. Per il PD spettro del tracollo nelle grandi città. Per il centrodestra invece la speranza di risorgere nella regione Lazio. E poi anche in questo caso l'addio a Carla Fendi, signore, regina dello stile. Il giornale voterà lo Jussoli Alfano che dice il giornale di Milano ci venderà agli scafisti per salvare la poltrona. Paura a Parigi intanto in questo incastro di argomenti. Jihadista in auto contro la polizia. A Londra un furgone in veste gli islamici. Un morto. A centro pagina il caso Facci Islam. La lezione di Mentana al web e all'ordine dei giornalisti. Lo ricorderete per chi l'ha seguita la vicenda. Filippo Facci, giornalista di Libero, sospeso dall'ordine dei giornalisti per aver pubblicato l'anno scorso un articolo in cui esprimeva il suo odio contro l'Islam. E poi flop front national in Francia. Così i lepenisti alla fine sono rimasti solo in otto. Scegliamo Consip il giorno del processo a Renzi. Sinistra sulla graticola. Si vota la mozione sull'otti al Senato. Ma il bersaglio ovviamente per l'opposizione non può che essere l'ex premier. In basso scordare la moglie in strada. L'ultimo brivido proibito. La disavventura di un motociclista. E poi Vasco spiegato da Vasco. I segreti delle sue canzoni. Il libro del cantautore. Dal giornale andiamo su Libero. La vendetta. C'era da aspettarselo. Un gallese si lancia col furgone contro la folla fuori da una moschea a Londra gridando uccido i musulmani. Siamo dispiaciuti ma non stupiti. Se non si fermano i terroristi dell'Isis ci saranno altri episodi simili. Scrive Libero. Autobomba contro la polizia a Parigi. A Crotone richiedente asilo invece arruolava per il califo. Centropagina. L'accoglienza secondo Gasman senza immigrati. Addio pomodori. I masochismi all'italiana. Oggi la festa dei profughi. Questa è l'analisi del libro. Legittima difesa. Donna uccide l'uomo che la minacciava. Se lo ritrova armato nel parcheggio dell'ufficio e lo investe con l'auto. Così almeno è ancora viva. E poi in basso l'accusa fomentate l'odio. L'Islam ci processa e scorda i suoi crimini. Un pezzo firmato Nick Farrell. Andiamo avanti. Il sole 24 ore. Brexit invece. Si apre il dossier Agenzie Pressing di Milano per l'autority dei farmaci. Francoforte favorita per il credito. E poi prestiti alle piccole e medie imprese. Garanzia. Cassa depositi e prestiti. Fei fino a 3 miliardi. Per l'industria. Hanno record per l'export della chimica italiana. E poi per i territori. Pil, start up e occupazioni. L'Emilia Romagna cresce in basso. Banche Venete spunta. Icrea intesa. Però resta in pole position. L'ipotesi di liquidazione soft degli asset. Il salvataggio atteso nel prossimo weekend. Con il coinvolgimento anche del tesoro. Andiamo sul manifesto. Ovviamente il titolo è La resa della Bastiglia. Questo gioco di parole Che spesso troviamo in apertura del manifesto Tentativo di attentato sugli Champs-Élysées contro la polizia Una scena che si ripete a poche ore dall'esito del voto legislativo Macron piglia tutto Maggioranza assoluta all'Assemblea nazionale Partiti sconfitti e nemarginati Tra la piazza e il Parlamento A stensione al 57% A Londra invece attacco alla moschea Finsbury Park L'attentatore ungallese accusato di terrorismo In basso c'è anche la politica D'Alema al manifesto L'ex premier attenti all'estremismo Nella sinistra Oggi è vietata la rottura Dal manifesto andiamo sul mattino Quotidiano di Napoli Soprattutto con un occhio particolare Al capologo Campano Londra Parigi Il virus dell'odio Finsbury Park Attacco alla moschea Champs-Élysées Kamikaze in auto Contro i gendarmi La miccia del radicalismo Incendia le due capitali europee Il terrorista inglese Ha investito la folla Al grido di morte ai musulmani Il commento è Se la vendetta sfida la civiltà Il killer bianco L'oscura minaccia dei suprematisti La guerra all'Isis ha battuto jet siriano E tensione tra la Russia e gli Stati Uniti E poi c'è il tema maturità Maturità alla fine del rito di passaggio Scendiamo nella prima pagina del mattino La stazione TAV è stata bonificata bene La D di RFI Gentile Tetti già riparati La tragedia invece ad Eboli Vede a battere la casa Un anziano muore di infarto Un anziano dializzato Aveva chiesto in vano il rinvio Per un abuso di necessità In basso appalti ai treni Tutti assolti dopo sette anni Nel 2010 gli arresti Ieri il verdetto per imprenditori E manager il fatto non sussiste E poi sulla destra il vice di Amazon Le mie follie per Napoli L'italo-americano Grandinetti da Seattle Sveglia all'alba Per le partite pensate di Maurizio Sarri Per la squadra partenopea L'avvenire tre colpi dell'odio A Londra furgone travolge islamici in preghiera A Parigi attacco alla polizia E in Mali invece ai turisti In Gran Bretagna l'imam ha evitato il linciaggio Dell'attentatore Solidarietà diffusa alla comunità musulmana E in Italia preso un reclutatore Il premier May La società è divisa Incubo suprematisti E poi cercavano stranieri Un'azione attesa Altri morti in mare intanto Scendendo di pagina E si litiga ancora sulla cittadinanza Lo sapete Lo Ius Soli è un argomento molto caldo In questo momento Dall'avvenire ci spostiamo Al secolo XIX I due volti del terrore Come vedete Gli attentati di Londra e Parigi Si rincorrono sulle varie prime pagine Dei giornali Delle testate nazionali Una vittima e almeno 10 feriti in Gran Bretagna In Francia invece è morto l'attentatore Iblitz A Londra Furgone sui musulmani A Parigi Autobomba contro la polizia Lo scontro Siria La Russia avverte Gli aerei degli Stati Uniti Sono dei potenziali bersagli Scendiamo in basso Ovviamente Qui la luce è soprattutto Sulla Liguria Carige Cassa di risparmio di Genova Pronta a dare il timone a Fiorentino Rosa di quattro nomi Favorito Il manager Ex Unicredit E chiudiamo Le prime pagine Delle testate nazionali Con la verità Licenziare chi tocca i suoi amici Il metodo Renzi Lo definisce Il quotidiano Fondato e diretto Da Maurizio Belpietro Il caso Consip Viene fatto Viene fatto fuori Perché ha confermato Le accuse allotti Al comandante dei carabinieri Ma ora C'è anche L'ex AD di Veneto Bank Che vuole vuotare il sacco Sul Boschi Ne vedremo Dice la verità Delle belle A centropagina La fotonotizia I telefonini sono fatti Per spiarci Anche se Sono spenti In basso Ci avviciniamo Come abbiamo letto prima Che ai ballottaggi Un referendum Sullo Iussoli Un voto contro i candidati Del PD Scrive la verità Farà capire Che non vogliamo La cittadinanza facile Agli stranieri E poi In tese segrete Quello che Gentiloni Non ci dice In arrivo svendite A favore di Francia E Germania In basso Il libro Di Vasco Rossi Vi racconto Perché ho scritto Siamo solo noi Il grande cantautore Spiega Il suo Inno Generazionale Questo per quanto riguarda Le testate Nazionali Adesso andiamo a vedere Come aprono i giornali Locali E poi andremo a vedere Le prime pagine Dei quotidiani Sportivi Ovviamente Lo facciamo Tra poco Andiamo sui quotidiani Sportivi Per primo Iniziamo dalla Gazzetta Dello Sport Sì Cambiamo Cambiamo un po' Scaletta Andiamo sui quotidiani Nazionali Di Sport E poi andiamo Sulle pagine Di casa nostra Il caso Donnarumma Che sta Riempiendo Devo dire Un momento In cui Il mercato È un po' Langue E allora Il caso Donnarumma Diciamo Fa parlare Tantissimo Di sé Un consiglio Da parte Del Quotidiano Della Rosea Ripensaci Gigio Conviene a tutti Il Milan Non si illude Ma uno spiraglio C'è Donnarumma È triste E fassone Si è detto Pronto a trattare Vi spieghiamo Perché sarebbe bene Per il portiere Per la squadra E anche per Il suo Tanto contestato Procuratore Minoraio La I tifosi Pronti a riabbracciarlo Ma C'è anche un comunicato Uscito ieri Da parte della curva Sud Del Milan La FIFA Pensa una riforma Per contenere Lo strapotere Dei procuratori In basso Da CR7 A Conti Che fuggi Fuggi E poi di spalla Il mercato Che come vedete Insomma va un po' a rilento Juventus Dani Alves Va al Manchester City Richiesto Darmian Douglas Costa Esterno del Bayern Monaco Vicino Per l'Inter Spalletti Chiama Borca Valero Palla allo spagnolo Roma Carsdorp Del Feyenoord Dice sì Pellegrini Firma con La clausola In basso Europeo Under 21 La rivincita Di Federico Chiesa E domani C'è Schick Sulla strada Dell'Italia E poi Sulla destra Basket Virtus Bologna Torna in Serie A Una grande Decaduta Una nobile Decaduta Venezia Oggi a Trento Matchball Per lo Scudetto Questo Per la Gazzetta Dello Sport Il Corriere Invece Apre con Una notizia Principale Inter E1 Borca Valero Ha detto sì All'offerta Nerazzurra Vicina anche L'intesa Tra le due Società Lo spagnolo Estimato da Spalletti Che vuole utilizzarlo Nel ruolo Di centrocampista A retrato Lasciando invece Joao Mario In una posizione A ridosso Delle punte Vedremo se sarà così Soprattutto se Poi arriverà La firma Effettiva Del centrocampista Spagnolo Della Fiorentina In alto Juve E Roma Da la scosta La Juve E' fatta Al Bayern 40 milioni Annuncio imminente E poi Gran colpo Roma Arriva Carsdorp Accordo col Feyenoord Manca solamente La firma In basso Si torna ovviamente Sulla vicenda Donna Roma Il Milan Litica con Raiola E chiama Allora Perin Per sostituirlo CR7 Battemessi Invece anche Sui social 277 milioni Di fan In tutto il mondo C'è anche questa guerra Oltre a quella Per il pallone d'oro Per i vari trofei Tutto sport Salutate Dani Alves È un gioco di parole Perché Dani Alves Andrà via Dalla Juventus Rescinde con il Brasiliano Dopo le numerose Uscite fuori luogo Degli ultimi giorni Dalle parole Sul futuro Di Di Balla Lo ricorderete Ha detto Per migliorare Deve andare via Dalla Juventus Alle polemiche Per l'orgogliosa Rievocazione Della finale Di Champions Vinta con il Barça Battendo proprio I bianconeri A Berlino Insomma È tutto sport Diciamo che Lo ha scaricato Subito Ancora prima Del comunicato ufficiale Milan Doppio incontro Per Neto e Perin Ovviamente C'è da sostituire Nel caso Donna Rumba Inter In attesa di Borca Valero E questa è una novità Che ci riguarda da vicino Ecco Coulibaly Sì perché è arrivata Anche la conferma Da parte del presidente Sebastiani Che Quasi fatto L'accordo Tra Inter e Pescara Per Il passaggio Di Coulibaly Ai Nerazzurri Dall'Inter Arriveranno Palazzi E Carraro E poi Chelsea Conte Lo stipendio Sale A 11,5 Milioni di euro E poi in basso Toro Batti un colpo Con Castro Si tratta A qua in Premier Sul mercato Serve la svolta Inchiesta sui veri Paroli del pallone Procuratore al potere Da Raio La Mendes Il calcio è cosa Loro E poi la strana storia Dei cinque campionati Top Geco Cavani Kane Messi Obama Young Bomber Però Senza gloria Davvero in basso Formula 2018 Già si pensa al prossimo Campionato di Formula 1 Dove ci sarà più Europa Rimaniamo sullo sport Ma vi facciamo vedere Anche due prime pagine Di quotidiani esteri Che Ve li facciamo vedere Soprattutto perché parlano Del nostro Marco Verratti 70 Questo è il mondo deportivo Ovviamente vi facciamo vedere Due quotidiani Di matrice catalana Soprattutto con un occhio Di riguardo Sul Barcellona 70 milioni È quello che avrebbe offerto Il Barcellona Al PSG Per acquisire Marco Verratti In realtà poi le cifre Come in tutti i mercati Sono ballerine Perché se andiamo su sport Sono 10 milioni in più Insomma Non proprio spicci 80 milioni per Verratti È chiaro che il centrocampista Di casa nostra È il pezzo pregiato Del mercato europeo E se dovesse essere confermato Il fatto che non Vuole tornare al Paris Saint Germain Ma ovviamente è tutto da verificare Il Barcellona è in prima fila Per assicurarsi il nostro mediano Adesso sì che possiamo andare Chiudiamo con le testate nazionali E andiamo sui giornali di casa nostra Partendo ovviamente con le edizioni del centro Le quattro edizioni delle quattro province Questa è quella di Pescara Furbetti sul corso Multe in arrivo Pescara scatta il piano del comune Telecamere per filmare le auto Contromano in alto Il richiamo alla cronaca internazionale Parigi un'auto esplosiva Contro furgone della polizia E poi visto che siamo a Pescara Alessandrini ordina di sparare ai cinghiali Gli animali entrano in città A Montesilvano I senegalesi sfrattati vanno alla Caritas A fianco come detto Coulibaly all'Inter C'è l'accordo Per quanto riguarda il calciomercato del Pescara E poi Mazzocca Le discariche ci costeranno 43 milioni di euro A Rigopiano Inchiesta bis all'Aquila Per le 29 vittime E poi al centro commerciale d'Abruzzo Ragazzine in delirio Per Ricchi In coda dalle prime ore Della mattina Per la star di Amici Questa è l'edizione dell'Aquila Ovviamente Qui sì che si va verso il ballottaggio Di domenica di Benedetto Biondi Ultimi appelli I candidati lanciano programmi E girano i quartieri Domenica il ballottaggio Ma non andrà solo all'Aquila Andrà anche Avezzano Giovani atleti e manager Volti nuovi della politica Avezzano al voto E poi All'Aquila Domani festa della finanza E ci sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella Sempre all'Aquila Invece nelle cronache Si rompe il bus I pendolari Restano a piedi L'avvertenza di Sulmona Aracu Salveremo il call center Oggi vertice al ministero Il proprietario invoca L'accordo Andiamo sull'edizione Di Teramo Busse e mazzette Chiesto il processo La procura Gommeur Avrebbe pagato 50 mila euro All'ex DG Di Arpa In quattro Sono nei guai E poi Il sottosegretario A Teramo Borletti Buitoni Il teatro romano Sarà recuperato In basso Morto a 23 anni Oggi Filippo Morto Alpinista In Trentino Torna nella sua Teramo Poi la nomina La Giulianova Patrimonio Va a Ranalli In basso Per il calcio Ieri presentazione Per Asta e Repetto E allora Il presidente Campitelli Dice farò pace Con i contestatori Campitelli presenta Asta e Repetto E invia un messaggio Ai sostenitori Biancorossi Chiudiamo con La prima pagina Del centro Edizione di Chieti Lanciano Vasto Dal consiglio No al nuovo ospedale Chieti La politica si divide Sulle scelte della sanità locale Tutti contro tutti In aula In aula A San Salvo Troppi annegamenti Basta con Le tragedie Chieti Si schianta in moto Grave Un 39enne Torniamo a San Salvo Ladri rubano Nel ristorante Di Angelucci E poi Si riparte Dalla prima categoria Per il Lanciano Con l'arrivo Di De Vincentis Il neopresidente Accolto a 200 tifosi De Vincentis Che dice Il Lanciano Tornerà grande E poi nel box Un richiamo al basket Di Cosmo Incontra Serpellini E Marchesani Andiamo Sul messaggero Edizione Abruzzo Anche qui la prima pagina Ospedali bloccati Dalle liti Dopo Maltauro La regione vorrebbe Project financing Con i privati All'Aquila e Teramo Le elezioni del capoluogo E la battaglia di Giulianova Paralizzano I grandi investimenti In alto Il Teramo Si presenta Asta vuole Si presenta Asta vuole il riscatto Il DS Repetto Sarà un anno di austerity Maturità Notte prima degli esami Si scommette Su Pirandello A Pescara Febbre del gioco Contagia Casalinghe E top manager A Chieti Nomina Del Di Pietro Indagato Flacco DG Del ASL Avviso di fine inchiesta Contestato L'abuso D'ufficio A entrambi E poi a Pescara Nella fotonotizia Basta con le transenne I negozianti Pochi clienti E gli affari Vanno giù A Rivisondoli Bomba da brillare Un paese È stato Evacuato E chiudiamo Con la città Eccola qua Quotidiano Della provincia Di Teramo Inchiesta sui lavori Nei laboratori La Corte dei Conti Indaga sui bigliori Spesi per la messa In sicurezza Dal commissario Balducci In alto Corruzione sulle gomme Di Arpa E Atac Chiesto il processo Per il gruppo E Torre Nella fotonotizia Rifondazione Diavolo E poi Per la politica Nugnes Non è più vicepresidente Rosetano Rosetano risolve La crisi Tutta interna Al PD Di spalla La crisi A Teramo Una firma in bianco Per l'imminente Giunta Brucchi E poi Ranalli Nominato Alla patrimonio La Ranalli Verso La giunta In basso Oggi Il rientro Della Salma Unitrento Piange la morte Del giovane Alpinista Teramano In basso Incidente a Sant'Egidio Incastrato nel nastro Trasportatore Queste erano le prime pagine Dei quotidiani nazionali E locali Noi adesso ci vediamo Le previsioni Del metro Il tempo Che farà E poi rientriamo Per entrare dentro I giornali di casa nostra Tra poco E allora Eccoci tornati Pronti ad entrare All'interno Dei nostri giornali Quello che troverete In edicola Tra poco Per chi Per chi sta uscendo Iniziamo dal Dal messaggero La pagina dedicata All'Abruzzo Ospedali Project Bloccati Dalla guerra Dei campanili Dopo Maltauro A Chieti Il gruppo Guerrato Disposto a investire Nel presidio Dell'Aquila Il casodea Il duello Teramo Giuliano Vaffrenano Per ora L'intervento Dei privati E poi A centropagina Storace Alemanno E Sabina Bocchino Ecco il nostro Movimento nazionale Ieri Battesimo In Abruzzo In Basso Incendi Pochi soldi E nessun aereo Costano Troppi Mazzocca In caso di grandi roghi forestali Potranno essere impiegati solamente Gli elicotteri E poi ci spostiamo A Pescara Commercianti Antitransenne Certi eventi Ci penalizzano Non solo Ironman Troppe le iniziative Che impongono La chiusura Delle strade Avvertimento All'assessore Cuzzi No alle auto D'epoca Nel sabato Dei saldi Questa è l'apertura Della pagina Di Pescara E poi Sosta al mare Antonelli Chiede Nuove tariffe Tutti a 2,50 euro Abbiamo raccontato L'altro giorno Sono varie tariffe A seconda Di dove Si parcheggia E poi L'inseguimento La polizia Blocca Due sedicenni Per furto D'auto Ma a proposito Di Ironman Il saluto Del campione Alex Zanardi Su Facebook Ringrazia i tifosi Pescaresi Quanta acqua Di mare Ho bevuto Insomma Questa è una particolarità Deve aver bevuto Anche Un po' Parecchia acqua ZTL Telecamere E display Ai barchi Elettronici Investimento Di 110.000 euro Su 13 accessi Nuovi occhi Anche su Viale Regina Margherita E questa è una notizia Che se cambiamo giornale Tra poco Lo vedremo È una notizia Molto ben presente Anche Sul quotidiano Il centro Eccola qua ZTL Il piano del comune Contromano sul corso Telecamera antifurbetti Sarà installata Per controllare Gli accessi Dei veicoli In direzione Nord Sud Cambiano posizione Altri occhi elettronici Ci sarà un display Per segnalare I varchi E poi trovate anche Il Riassunto Gli incroci Della ZTL Dove sono previste Le telecamere In i punti In cui le attuali Telecamere Saranno Rimosse Allora Proprio su questa Questione Della viabilità Noi ci andiamo a vedere Il servizio Riassuntivo Su questo nuovo Piano del comune Sulle zone a traffico Limitato Vediamo Assessore I varchi di Pescara Saranno dotati Di telecamere Ma soprattutto Di display Per avvisare Che in quel momento È attiva o no La ZTL Sì esatto Secondo me È un fatto Molto importante Per aumentare L'efficacia E l'efficienza Di questo servizio Quindi sì Metteremo Telecamere Stanno già Nell'arco di due mesi Saranno installate Sono già in corso Di installazione Queste telecamere Riposizionate In un modo Più efficiente Rispetto A quello attuale E poi Ciascun varco Avrà appunto Un display Per indicare Che il varco È attivo Non attivo Questo mi pare Che ci porti Verso una modernizzazione Un miglioramento Dell'efficacia Della gestione Di questo servizio In alcune zone Per esempio La cosiddetta ZTL ambientale Via Reggina Margherita Viene attualmente Chiusa Il sabato e domenico Con una transenna E con la presenza Di vigili Che insomma Oltre a impegnare Personale Che potrebbe fare altro Non è del tutto Efficace E sicuro Dal punto di vista Della circolazione Invece Con questa telecamera E con appunto Il display La cosa potrà essere Gestita in modo Molto più Vantaggioso Per tutti Durante la conferenza stampa Avete sottolineato Anche il problema Del grande lavoro Che occupa Gli uffici comunali Per i permessi Temporani Allo studio C'è anche un sistema Automatizzato Sì Questo è una cosa Che vorremmo Assolutamente fare Si parla di 1800 Permessi Che vengono rilasciati Annualmente Per gli accessi Temporani La ZTL Che è un'attività Rutinaria Non richiede Grande impegno Dal punto di vista Intellettivo Ma richiede invece Dispegno di tempo E di energie Anche qui Potrebbe essere usato Questo tempo Per fare altre cose Quindi stiamo pensando A un software A un uso Per esempio Con gli smartphone Delle applicazioni Come si fa Già in altre città Stiamo guardando Alcuni esempi Bologna Varese Cercheremo Questo l'anno prossimo Non fa parte di questo progetto Di andare in questa direzione Anche noi A Pescara Continuiamo la lettura Restiamo sul quotidiano Il centro Altra emergenza Che è quella dei rifiuti Inguaiati dai rifiuti Mazzocca Il sottosegretario All'aggiunta regionale Le discariche Ci costeranno 43 milioni di euro Maxi multa Dall'Europa La regione A caccia di fondi Per pagare Le bonifiche Ma le imprese Abruzzesi Che hanno raccolti i veleni Attendono I soldi Da un anno E poi c'è l'elenco Dei comuni E dei siti Che sono finiti Nel mirino Dell'Unione Europea E allora Anche in questo caso Andiamo ad ascoltare Le parole Appunto di Mario Mazzocca Sulla questione Rifiuti Vediamo Sono tre procedure Nell'unico caso Dei siti Inquinati Da bonificare Ha comportato Una sanzione Quantificata Nel 2014 In 10 milioni Di euro Più 200 mila Euro Ogni semestre Di mancata Bonifica Riguarda 25 siti Individuati Nel 2009 Sulla scorta Di un'indagine Della forestale Estesa Tutto il territorio Nazionale Fin dal luglio 2014 Siamo riusciti A recuperare Un importante Finanziamento Da parte del Ministero L'Ambiente Di circa 14 milioni Di euro Che insieme Ad altri fondi Che sono pervenuti Dallo Stato Con una delibera Cipe E anche Impegnando Dei fondi Che abbiamo inserito Nel master plan Per oltre 12 milioni Di euro Noi investiremo Questi 43 milioni Di euro Circa Per In primo luogo Chiudere Il tema Della procedura Di inflazione Che costa L'Italia E anche L'Abruzzo Una sanzione Importante Soprattutto Di non prendercele Altre due Che Quella Sulle discariche Da mettere in sicurezza E quella Sull'adeguamento Di gestione Dei rifiuti Si trovano Ancora In una fase Interlocutoria Manzocca Tornando al piano Dei rifiuti Si basa Punta Sull'economia circolare Dunque Ancora Un no fermo Alla presenza Di un inceneritore In Ambruzzo Sì Certamente Noi stiamo Per andare in giunta Con Come avevamo Previsto Con la richiesta Di modifica Del decreto Legislativo Perché siamo riusciti A dimostrare Come la quantità Di Rifiuto Residuo Che si produce In Ambruzzo Non è Assolutamente Compatibile Con la Gestibilità E funzionalità Di un Impianto Di incenerimento Di qualunque Di qualunque Tipo Pesso Possa Essere Concepito Vediamo un'altra Emergenza Che è quella Relativa Ai cinghiali Restiamo sul centro I cinghiali Arrivano in casa Dei pescaresi Avvistati a Sandonato E Fontanella Il comune Dice Troppi rischi Ci sarebbero Per le persone Queste sono Alcune cifre Che riguardano Appunto La presenza Dei cinghiali In Abruzzo A proposito Di animali Invece Intervento Dei vigili Del fuoco Salvati Gli anatroccoli Nella Fontana Andiamo avanti Rigopiano Aperto una seconda Inchiesta La procura Dell'Aquila Indaga Per disastro Doloso Ma i PM Di Pescara Dicono no Al trasferimento Del fascicolo Principale A Valva Un convegno Su Rigopiano E Feniello Presenta Il suo Movimento Sempre a Pescara Bimbo Rimane senza cure Per le assenze Il piccolo Gravemente malato Non può riprendere Il trattamento Al Paolo VI Don Pagnello Pronto a incontrare La famiglia In alto A 16 anni Rubano un'auto E sono nei guai Si erano portati Dietro un coltello Da cucina Denunciati E riconsegnati Ai genitori Lite in un bar Per il conto In centro A Pescara Un cliente Finisce in ospedale Spaccio Nella zona Della Movida Arrestato Un 39enne Andiamo avanti La storia I figli di Eriberto Di nuovo in spiaggia Nel nome di papà Anita Luco Ed Erminio Mastro Mattei Insieme dopo dieci anni Gestiscono uno stabilimento Balneare A Montesilvano E poi Il grazie di Zanardi Ai pescaresi Il messaggio dell'idolo Dell'Ironman Diventa virale E chiude La festa Del triathlon Andiamo avanti Con alcune pagine Per entrare Su Su quella Sulla pagina Di Montesilvano Eccola qua I senegalesi Dicono sì Al centro Caritas Riunione del comitato Per l'ordine pubblico Sono 17 Gli extracomunitari Sfrattati Da via Ariosto Che lasciano la spiaggia Dopo il vertice D'urgenza Convocato Dal prefetto A centropagina Sporcizia E lite Tra i privati Il caso Finisce in procura L'assessore De Vincentis Spiega perché Il comune Non può intervenire Sul degrado Nel retropineta A fondo pagina Invece Riporteremo In alto Il nome Dell'Abruzzo Grande impegno Sportivo e solidale Della squadra Dei vigili urbani Di Montesilvano A San Benedetto Rimaniamo Sempre a Montesilvano Area metropolitana Aspoltore Città Sant'Angelo Aspoltore Cade da una scala In azienda dipendente Finisce in ospedale Infortunio per un 54enne Di spoltore Precipita sul piazzale Da un'altezza Di 3 metri I carabinieri Indagano E hanno fatto intervenire L'ispettorato del lavoro E il personale Dell'Asla Montesilvano Disinfestazione Contro i ratti Potete zandallizzare Ecco il calendario Cassetto tributario Mille iscritti Nuovo sistema Di pagamento online Riscuote il gradimento Dei contribuenti A Pianella Sia il bilancio Ai nuovi servizi A Montesilvano Sempre marchiate Le altre 109 biciclette Contro i ladri Al parco Le vele La spiaggia Ci sposiamo a Francavilla Tra calcinacci E vecchi Spuntoni di ferro Il tratto libero Tra gli stabilimenti Lo squalo Ed è nata una stella Da un anno I bagnanti Denunciano La presenza Di immateriali Edili Che sono molto pericolosi E si vedono anche A occhio nudo Che sono pericolosi Guardie zoofili In azione Multe da 150 euro Per chi non raccoglie Gli escrementi Dei cani E poi telecamere Nel parco Dei 120 alberi A San Giovanni Tiantino Sistema Di video sorveglianza Contro quelli Che potrebbero essere Gli atti Di teppismo A popoli Alle sorgenti Turismo verde Tra natura Bici e cibo E poi Gli arazzi di penne Saranno esposti a Roma Le opere in mostra Al museo d'arte contemporanea Petrucci Vetrina importante Per le nostre attività Cambiamo Torniamo un attimo Sulle colonne Del messaggero Dunque Cambiamo Giornale Per rimanere Sempre sulla Sull'area metropolitana Di Pescara Maturità Notte prima degli esami Domani la prima prova Scritta di italiano Scuola.net Indica Pirandello I trattati europei di Roma In cima al Toto Traccia Il ministero ha avviato Sul sito web La campagna No Panic Con i video consigli Insomma I classici consigli Che si danno Sempre più o meno Di questi Di questi tempi E poi Invece a Montesilvano Politica cittadina In agitazione La Musa Torna in giunta Un altro Valzer Di poltrone Vedete Manolo La Musa Candidato Qualche tempo fa Anche alla poltrona Di sindaco Inferi e Ferrari Festa in rosso Alla cantina Marramiero Questo è L'evento Allora Adesso Con il messaggero Ci spostiamo All'Aquila I dati delle urne Sono ufficiali Il PD per devoti Valla un Seggio Un centinaio Di preferenze In meno per i Dem L'ottavo Scranno A sconci Ma è in bilico Confermato il quarto Consigliere comunale Per la lista civica Di Benedetto Il passo È possibile E poi Di spalla L'inchiesta I casalesi Negli appalti Il pentito Iovine Conferma Insomma Questa infiltrazione Negli appalti Se scendiamo In pagina C'è ancora Ritorniamo Sulla questione Voto Ballottaggio Con i due candidati Di Benedetto Rispolvera All'aeroporto Secondo Scalo Romano Biondi passa al megafono Tua danneggia I pendolari E poi L'ecomostro A fossa di Paganica Che toglie la voglia Di fermarsi Sul Gran Sasso La vergogna Secondo il testimonial Di eccezione Due palazzoni Due palazzoni Crollati Cumuli di Rottami E Schilift In abbandono E il comune Si riprende Campo Nevada In basso Pagliare di Sassa Il laghetto Nel più completo Abbandono Arroio Squadra di calcio Torna a chiedere Un campo E nel nuoto Sincronizzato La Rarinantes Sugli scudi A Canistro Lavoratori di nuovo In piazza Le maestranze Dell'azienda Santa Croce Hanno organizzato Ieri una nuova protesta L'ex patron Colella Non si è presentato Questa volta Si contesta L'eccessiva lentezza Della regione Che non vara La riorganizzazione Per riattivare La produzione Avezzano Viabilità Pronta La nuova rotonda Di Borgo Pineta Scendiamo Sul Mona Palazzo Corvi Altra di Fida Poi esposto Alla procura Oggi Arrivi Sondoli Come avete letto Anche prima Maxi evacuazione Per la bomba Tutta la popolazione Sarà trasferita Nella palestra Della vicina Pesco Costanzo E poi Ancora cronaca Un malore Stroncato nel meccanico Di Giulio Per i trasporti Lavori iniziati Sul tratto Marsicano Andiamo a Chieti E poi ci torneremo Anche con il centro Per la procura Ci fu abuso Nella nomina Della Di Pietro Dirigente amministrativo E direttore Flacco Sono indagati Loro si difendono Con i documenti L'assessore Polucci Chi finisce nel calderone Degli esposti È davvero Una vittima Della politica Ecco le prime mosse Del rettore Caputi E poi a centropagina Sanità Tutti uniti Per la tutela Dell'ospedale Ma il consiglio Si divide E poi La cronaca Un'auto Gli taglia La strada Grave Un giovane Motociclista Ciapi Nuova Beffa Dopo la CIG Si torna al lavoro Sì Pericoloso Tratto Off limits Ecco i provvedimenti A San Salvo Dopo gli ultimi casi Di annegamento Una corda galleggiante Maggiori segnalazioni Di rischi Il comandante Rotolo In quel punto C'è una forte risacca Solo la presenza Dei bagnini Ha evitato Ulteriori tragedie Abbasto Medicina turistica Troppo tardi L'apertura A luglio Cambiamo giornale Anche Ancora una volta E torniamo Sulle colonne Del centro Per La questione Col center Sul Mona Col center A rischio Aracu Vogliamo salvare I posti di lavoro Oggi incontro a Roma Per scongiurare i tagli Il proprietario Ma serve un accordo A Campobasso Ad esempio Hanno già firmato L'Aquila Banda Della finanza In concerto E poi Ad Ortucchio Strage di pesci Nel laghetto Senza acqua Effetto siccità Con l'irrigazione Nei campi del Fucino Allarme del WWF Che chiede Interventi Subito Andiamo sulla pagina Di Teramo Tangente Da 50.000 euro La procura Chiede il giudizio Per i titolari Della Gommeur E l'ex Direttore generale Di Arpa E oggi Torna La salma Di Filippo La barra Del giovane Morto Sulle Dolomiti Sarà nel pomeriggio Al cuore immacolato I funerali Si svolgeranno Domani Andiamo Avanti Per tornare Sulle colonne Del messaggero E vedere come apre Con un'apertura Sulla politica Invece Per la pagina di Teramo Giunta a Brucchi La spunta Almeno sette Gli assessori La maggioranza Da carta bianca Al sindaco Per il nuovo esecutivo Sicuri Provvisiero Guardiani Fracassa Cozzi Di Sabatino Canzio E Marchese Questa dovrebbe essere La lista Provincia Nugnes Si dimette Da vicepresidente E poi Di spalla Solo bicchieri Di plastica Nelle notti Della Movida Questo è il divieto Misure di sicurezza Per scongiurare L'effetto Torino Coppa Interamnia Sarà Il primo test Di efficienza Acqua del Gran Sasso Indaga La Corte dei Conti E poi A Giulianova Patrimonio Ranalli Nuovo amministratore L'ex AD Di Ecotedi E Team Sostituisce Filippo Di Giambattista Che si era dimesso Dopo essere stato coinvolto Dell'operazione Dell'operazione Castrum Ancora una fumata nera Per il varo Della nuova giunta Il PD chiede tre assessori Presidente del Consiglio E un posto Al porto Cronaca Sempre a Giulianova Spacciava la droga Arrestato un operaio Ad albadriati Che invece Sicurezza Arrivano sei nuovi vigili urbani Scendiamo in basso Roseto Cartellone degli eventi Tanti gli appuntamenti Invece A Martinsicuro Anche qui Si prepara il secondo turno I candidati Si sfidano in piazza Altro salto a Giulianova Arboretti Ospedale Pronti alla mobilitazione Noi siamo per andare Adesso Sulle pagine sportive Cominciamo proprio dal messaggero Visto che ci siamo Sarà una vida spettacolo Parla Andrea Camplone Pescarese Che Dice L'ultimo è stato Un campionato Molto tattico Stavolta In tante punteranno Sul bel gioco Zeman A suo modo è unico Ma ha bisogno di calciatori particolari Ciano Davanti a un'offerta Dice Potrebbe partire Ciano Attaccante del Cesena Ovviamente la squadra Allenata da Andrea Camplone E sul mercato del Pescara Invece di Spalla Sinistra Il nuovo obiettivo Si chiama Beghetto Questo è l'ultima idea Andrea Beghetto 23 anni Lo scorso anno 23 anni Dallo scorso di proprietà Del Genoa Peraltro È anche un figlio d'arte A centrocampo Invece trattativa Per signori E poi c'è un giovane Di cui si parla Davvero un Gran bene Il giovane Nando del Sole Pronto a tutto Dice Per convincere Il tecnico Zeman Dargli una possibilità Sogno di essere Protagonista All'Adriatico Devo dimostrare Di meritarmi Un'occasione E andiamo adesso Sul Teramo Operazione Austerity Per il nuovo Teramo Ripeto Dovrò gestire Un'emergenza finanziaria Nelle ultime stagioni Il club ha speso troppo Quest'anno Proveremo a fare bene Con un budget Limitato Le date Del ritiro Il 19 luglio Il ritiro ad Alfedena E poi vediamo anche Le parole del presidente Campitelli Fuori rosa Chi non rescinerà Il proprio contratto E che non farà più parte Della rosa Sinergia confermata Con il Pescara Potrebbe arrivare Dal Pescara Alessandro Bruno Le prime parole Anche di Asta Siamo accomunati Dalla stessa Voglia di riscatto In basso In Serie D All'Aquila Oggi Incontro decisivo Per la cessione Di cui si parla Di cui si parla tanto Torniamo Restiamo sul calcio Ma andiamo invece Sul Sul centro Perché Coulibaly Inter Si chiude Arrivano Palazzi E Carraro C'è l'accordo Per il trasferimento Del senegalese In attacco Spunta L'ex Lancianese Guido Marilungo Questa L'apertura Del quotidiano Il centro Sul mercato Del Pescara C'è anche Il diario Questa è una Settimana importante Per l'operazione Dei riscatti Dei vari calciatori E poi Sempre rimanendo In Serie B Ascoli Folie Per favilli 3 milioni Marchigiani Hanno riscattato L'attaccante Dal Livorno Anche qui Si passa A questione Teramo In una chiave Differente Con le parole Del presidente Campitelli Che dice Ricucirò con I contestatori Di essere petto Sul piano tecnico Comando io Il problema Sarà sfoltire La rosa Budget ridotto Ce lo faremo Bastare Per la prima volta Preparazione Precampionato Che sarà Ad Alfedena Le parole Anche di Asta Bisogna Riconquistare I tifosi L'allenatore Faremo in modo Che la gente Sia orgogliosa Della Nostra squadra E allora Visto che ne abbiamo Parlato Ci andiamo ad ascoltare Le prime parole Di Repetto E Asta E poi torniamo Antonino Asta Benvenuto innanzitutto A Teramo Pronto per questa Nuova avventura Che dovrà essere Di rivincita Per Antonino Asta Ma soprattutto Per il Teramo Sì Grazie Di quello che mi dai Ben arrivato Ma altrettanto Voglio Voglio fare io Ringraziare la società Che mi ha scelto In quello Che sarà Un nuovo percorso E quindi Come dicevi bene tu Entrambi abbiamo Voglia di Di rivalsa Io arrivo Da un campionato Da un esorono Un po' strano Ero nei playoff E quindi Veramente È stata È stata mal digerita Da parte mia La società Dopo un'annata Così Un po' Così Un po' In chiaro scuro Ha voglia Di far bene Entrambi E vogliamo Per prima cosa Non promettere Grandi cose La prima cosa Vogliamo una salvezza Tranquilla Questo è l'obiettivo E poi strada facendo Vediamo cosa riusciamo ad ottenere Ma quello che dicevo Come ho detto anche ai tuoi colleghi Voglio che questi ragazzi Diano tutto in campo Per il bene Della città Della società E dei tifosi Il presidente Capitelli In conferenza stampa Ha detto questo Per il Teramo E l'anno zero Come si vede Antonino Assa come tecnico Dell'anno zero Del Teramo Ma sono Sono anche abituato A questo Ho trovato squadre Dove dovevi costruire Da zero Squadre In cui invece Fatte di Magari di esperti Di giovani Quindi Non è per me Una preoccupazione Assolutamente Adesso è il momento Di pensare Veramente Già a progettare Una nuova squadra Stiamo già lavorando Nel pensiero Quello mio Che sarà Di avere una squadra In campo Che sia brillante Una squadra Che possa avere Delle idee di gioco Quello mi preme E in base a quello Cercheremo di Di riconfermare Qualcuno Altri no E di prendere Dei giocatori Funzionali A nostro progetto Giorgio Repetti Innanzitutto Benvenuto a Teramo La tende Un lavoro Complicato Ma se vogliamo Tempisticamente Anche abbastanza Compresso Perché il contratto È di un anno E il Teramo Ha bisogno di ripartire Va bene Voglio dire Un anno di tempo Sarebbe già buono Ma non ce l'ho Il problema È che abbiamo 15-20 giorni No Abbiamo da risolvere Questa situazione Dei contratti In essere Per cui Giocatori che non Hanno sfondato Nelle simpatie Della gente Nelle simpatie Della società Quindi Dovremmo essere bravi A trovargli Altra collocazione Chiaramente Ci vuole un po' Di tempo E quindi Ci vuole un po' Di pazienza Da parte di tutti E poi Riuscire a Dopo Riuscire a Mettere insieme Una squadra Che possa essere Quella più Vicina All'idea Dell'allenatore La scelta di Antonino Asta Lei ha detto In conferenza Stampa C'erano 4-5 nomi Che abbiamo Sondato Perché la scelta Poi è caduta Proprio su di lui No ma lui aveva Un target Precisissimo Ha fatto molto bene Come diceva Il tuo colleghi Io ho visto molto Il Monza suo Perché seguivo Per conto del Chievo Finotto Vita E Asta E Asta E Valagussa Tre giocatori Che ci interessavano Sono giocatori giovani Del 93-2 Pofinotto Non so Ma Supergiù Dovrebbe essere Anche lui vicino Era il 2012-13 Quindi Li faceva giocare Che avevano 19 anni Hanno fatto molto bene Li ha lanciati La squadra Era molto bella da vedere Aggressiva Simpatica Veloce Segnava Insomma Ha vinto il campionato A me è piaciuto molto Poi chiaramente Uno prova A fare due o tre telefonate Quattro o cinque Perché poi A incontrare Qualche allenatore Perché è giusto Avere anche un'idea Di altri Ma insomma Il primo della lista Era Asta Queste le prime parole Di Asta e Repetto Allora Restiamo Sull'argomento Teramo Calcio Vedendo le colonne Del quotidiano La città Teramo Inizia una nuova era Asta e Repetto E l'anno zero Presentati Allenatore e direttore Ma Campitelli Dice Quest'anno si riparte Con umiltà E il progetto È triennale Cambiamo Sull'altra pagina Il focus Il direttore sportivo Pungente piace L'allenatore Invece Già scalpita Repetto Ironico Sono stato Un anno In esilio Invece per Antonino Asta Non sono solamente Un motivatore Cambiamo giornale Per rimanere Sullo sport Notizie che riguarda Il Roseto Basket È amoroso È l'ora dei saluti Il giocatore firmerà Con Montegranaro Grazie a questa città Che mi ha dato tanto Lascio dopo un'annata super Con un solo piccolo rimpianto Con la Virtus Dovevo Fare Assolutamente Meglio Ancora Cambio Per vedere Invece La ripartenza Del Lanciano Il nuovo corso Rosso-nero Lanciano De Vincentis Che dice Il Lanciano Tornerà grande E allora Adesso Ci leggiamo rapidamente Quelle che sono Le notizie principali Della provincia E soprattutto Di Teramo Città Prendendole proprio Dal quotidiano Che porta Esattamente Lo stesso nome La città Appunto Acqua del Gran Sasso Aperta l'inchiesta Sui lavori Nei laboratori La Corte dei Conti Apre un fascicolo Sui lavori Del commissario Dopo l'esposto Del forum Delle acque Il nuovo esposto Sarà presentato Dagli ambientalisti Anche per l'emergenza Idrica Dello scorso Maggio Andiamo avanti E ci spostiamo Proprio Sulla Crisi in comune Una firma in bianco Per la nuova giunta I 18 consiglieri Di maggioranza Compresi i dissidenti Firmano il documento Proposto dal sindaco Maurizio Brucchi Che vedete nella foto Arriva con i dissidenti Falasca Caccioni E sbraccia E Enzo Scalone Prega i fuori usciti Di rientrare nel PD L'ex capogruppo DS Uomo del Uomo DEM Critico con il capogruppo Regionale Sandro Mariani Nugnes Non è più Vicepresidente Della provincia di Teramo Ma incassa altre deleghe Il sottanegliano Risolve con eleganza Il problema politico Interno al PD Di Sabatino Apprezza E ricambia E poi a Teramo La visita del sottosegretario I beni culturali Buitoni In città Per fare il punto Anche su biblioteca Art bonus Castelli E il Duomo di Atri E c'è una Cronaca molto dettagliata Con delle foto Che raccontano un po' La visita Di Ilaria Borletti Buitoni Rivoluzione in arrivo Per i vertici Della TEAM In Via Adelfico Bandite le candidature Tra quadrature Di giunta Quaterosa E circolari Del ministro Madia In basso Decoro Verde pubblico E decespugliamento Fratelli d'Italia N In calza L'amministrazione E oggi Il rientro Della salma Del giovane alpinista Morto Filippo Di Francesco 23enne Teramano Che è precipitato Durante un'arrampicata In solitaria Sulle Dolomiti Il lutto Alla cona I funerali Del dottor Altamura Val Vibrata Braccio incastrato Nel nastro trasportatore Incidente sul lavoro In un cementificio Di Sant'Egidio Per un 59enne Di Campli Di spalla Dal Badriatica Ubriaco al volante Prende in giro Due militari Rintracciato prima Denunciato poi Vallottaggio a Martinsicuro Senza apparentamenti ufficiali Scaduti Domenica alle 13 Termini in vista Del secondo turno Elettorale E poi L'inchiesta di Tortoreto Dissequestrata la lavanderia Del cognato Di Saccuti A Giulianova Un Ranalli sicuro L'altra in forse Il gioco tra Luca Ranalli E Nadia Ranalli L'ex ecotedia A capo della patrimonio L'ex assessore Potrebbe tornare in giunta Di spalla Margherita Trifoni Sindaco e PD Pensano alle poltrone E non ai problemi Cronaca A Giulianova Insospettabile Beccato con 58 grammi Di cocaina E serati E poi vediamo Chiudiamo davvero con la cultura L'allerta di Ratzinger Sul capitalismo Nel giugno del 91 L'allora cardinale Parlò a Teramo Di un tema Oggi in Primo piano Abbiamo letto Speriamo con esaustività Tutto quello che c'era Da sapere E da provare a leggere Questa mattina Sui nostri quotidiani La rassegna stampa Finisce qua Alle 14 Vi ricordo L'appuntamento Con la prima edizione Del nostro telegiornale Mattino 6 Ovviamente Torna domani mattina Alle ore 8 Buona giornata Buona giornata Buona giornata